boom quinta puntata del podcast clamoroso ciao a tutti cari i nostri amici ascoltatori riprendiamo il discorso hai ragione in effetti si può quasi oramai dire che tu sia il mio co-host del podcast clamoroso sono ufficialmente il nicola savino del podcast clamoroso mi autonomino così assolutamente quindi dovremmo fare gabe e il tabby presentano il podcast clamoroso anzi per questo episodio non ti metterò neanche più nei come nel titolo perché c'è scontato che tu ci sia ormai no 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 ci sta ci sta no trattami ancora come ospite sono il tuo co-host ma sono comunque anche un ospite dai non mi permetto di far parte del podcast clamoroso per adesso torniamo subito nel vivo del discorso ti volevo chiedere subito com'è stato joker è stato fighissimo è stato veramente bello cioè nel senso non è il filmone incredibile da classica trasposizione di fumetto dc come magari poteva essere qualsiasi episodio di batman precedente però è molto bello al suo perché cioè è più quasi una commedia tragica con un bel risvolto sulla malattia mentale che non è scontato e secondo me lancia anche un bel messaggio nei confronti di quelli che sono un po' gli emarginati appunto perché magari sono appunto effetti affetti da malattia mentale e lo lancia anche in maniera abbastanza prepotente infatti non so se hai visto che in un bel po di paesi è stata non dico vietata la proiezione però ci sono stati un po di problemini addirittura no non ho visto è praticamente adesso non mi ricordo dove però hanno detto che non era per niente educativo e che anzi era un po' rischioso farlo vedere ai ragazzini perché poteva un po' istigarli a gesti inconsulti a robe un po strane che in effetti è un po' è un po' pesante in alcuni punti non ti spoglierò niente perché è facilmente spoilerabile no è facilmentissimamente spoilerabile che è il cattivo di batman cioè non c'entra niente con i supereroi o un po' si no nel senso se conosci un po' la storia se sei un fan di batman sì c'è una connessione c'è nel senso che comunque ci sono poi una serie di personaggi che che compaiono nel film che fanno parte della storia di batman cerco sempre di non spoilerare c'è sì 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 non al completo però comunque ci sono tantissime referenze sto cercando sempre di spoilerare il meno possibile e di spoilerarlo il meno possibile anche a tutti gli ascoltatori che magari non hanno ancora visto da quello che ho visto secondo me questo film qua è molto tratto da the killing joke che è una graphic novel non l'hai mai sentito nominare no mi manca ok sai chi è alan moore già sentito ma non ho presente adesso di fumetti genio indiscusso pazzo è stato autore di the watchman ok v for vendetta sì è anche di straordinari swamping ha scritto per un po judge dread vabbè ha fatto un sacco di roba figa ha fatto alcune saghe molto belle sia di batman che di superman ok ha scritto in particolare una di queste qua di batman che è the killing joke che è incentrata è una delle tante storie di origini del joker no ok perché in verità il joker rappresenta un po il caos no nell'universo dc quindi lui stesso ogni tanto racconta del suo passato e ci sono stati diversi episodi in cui ha raccontato della roba e poi ha detto però forse non è vero come se lui stesso no non volesse raccontare cioè le vere origini del joker non si sanno la l'identità segreta del joker non si sa non si sa come si chiamasse eccetera eccetera in questo the killing joke che è degli anni ottanta ed è un capolavoro assoluto disegnato da un disegnatore bravissimo si chiama brian bolland anzi guarda giusto per dare un'idea ora ti google qualcosa di the killing joke perché è stupendo facci sta scrollata scusa the killing joke è dell'ottantotto e ha infatti c'è delle immagini bellissime è veramente molto molto bello e secondo me si rifà tanto a questo the joke non lo so perché ovviamente non l'ho visto però secondo me hanno voluto e tutto il concetto di fondo di the killing joke è che basta una giornata di merda per trasformare una persona sana in un nel più pazzo dei pazzi che è assolutamente un po il motivo che hai del film anche un po il senso del film ci sta e non proprio una giornata storta una serie di robe sì una serie di di storti sfortunati eventi ci sta ecco comunque ne stavo parlando con con mia zia cena è stato topic anche la conversazione e mia zia e mio zio l'hanno visto ma da quello che ho capito io loro non adesso non sono entrato troppo a approfondire ma loro non hanno idea che il joker sia il cattivo di batman no è possibile secondo me no c'è un film sono che un film adesso cioè per darti idea appunto di quanto questo film qua sta entrando nel mainstream no beh sì sicuramente sta avendo un riscontro pazzesco anche magari su quelle persone che non sono appassionate della saga di batman o comunque dei supereroi di si in generale sì che voglio vedere cioè non è non è inteso come il classico film di quella serie lì di quella saga lì va bene sarà tipo gli avengers che no a zero a te piace no no abbiamo già parlato ma non me lo ricordo ne abbiamo già parlato e ti ho sempre deluso perché ti ho detto che io degli avengers non so praticamente niente non ho neanche mai visto un film il film degli avengers abbiate pietà se non siete d'accordo ma no che in realtà aspetta adesso magari non sono fra i tuoi film preferiti però non me ne avevi parlato male alcuni film di supereroi fighissimi ci sono però i film soprattutto i primi due avengers sono tremendi sì banca gara male male poi ci sono quelle scene di combattimento di 40 minuti con i super alieni con le cose tremendo cioè se vi voglio vedere non lo so sì tremendo invece ce ne sono alcuni che sono veramente fighi cioè già per esempio è un po' tamarro un po' cosa però tipo pantera nera è un bel film quello mi sa che l'ho visto in aereo tipo capitano america soldato d'inverno quello anche allora aspetta perché io associo gli avengers ai film degli avengers cioè non ai personaggi degli avengers che poi nel senso ci hanno fatto dei film sopra a prescindere da quelli che si intitolano di avengers e allora aspetta capitano america l'ho visto sì vabbè scusa gli iron man l'hai visti tipo iron man zero iron man 2 e 3 sono due bei film belli cioè te li vedi ti intrattengono fanno ridere sono divertenti ecco sai cosa sono stupendi ma proprio belli i due guardiani della galassia eh ok no quelli sono proprio belli cioè sono proprio dei bei film che ti divertono cioè non ho mai avuto l'interesse di andarmeli a vedere me li sono visti appunto in situazioni come sono in aereo scrollavo non sapevo che cosa guardarmi guardavo gli avengers il capitano america o o pantera nera basta ecco mi fermo lì a livello di di interesse nei confronti degli avengers anche perché a differenza tua io non ho neanche mai letto i fumetti zero zero io fumetti americani zero cioè come diceva l'altra volta grande passione per i manga ma fumetti americani vedi spider man superman batman e affini zero di zero forse qualche che numero ho comprato quando avevo tipo 12 13 anni in edicola ma non mi ricordo neanche perché invece scusa quelli sempre filone americano però diciamo quelli fumetti fra virgolette un po più maturi tipo la vertigo comics che sono poi una linea parallela in verità della dc tipo the sandman preacher appunto zero di zero non è mai mai light quelli lì ecco vedi quelli sono fumetti che secondo me quelle sono proprio grandi opere d'arte sono proprio belle cioè sono sono alla pari di vedersi un film d'autore leggere un libro bello cioè sono proprio sia come disegni che come storie cioè un fumetto tipo watchman che è complicatissimo cioè tu io ce l'ho e c'è la leggenda di fianco con tutte le piccole nozioni le cose cioè tu ti leggi magari è diviso in in volumetti no watchman in piccole parti in piccole sezioni alla fine di ognuna se vuoi ti puoi approfondire tutto quello che hai letto e noti una quantità di dettagli di particolari ma incredibili ma una malattia a me queste cose piacciono molto e poi anche l'intelligenza con cui vengono narrate la il linguaggio forbito anche bello infatti a me piace leggerlo in inglese perché in inglese traspare veramente tanto la differenza di linguaggio usato dal hey man I mean come on oh my god a un inglese quasi più shakespeariano no cioè se tu lo vedi interpretato da un attore c'è appunto questa differenza che vedi uno che fa oh yes I think that maybe con quello che fa nello scritto sta alla tua immaginazione immaginarti come leggerebbero così però lo scritto rimane bello sofisticato fantastico ah no certo che poi è anche un po' la stessa cosa del vedere le serie in lingua originale o vederle doppiate tu scusa cosa fai da un certo punto di vista serie lingua originale o doppiate lingua originale e alcune quelle un po' più complicate con magari conversazioni e trame un po' più complesse le guardo con i sottotitoli in inglese per non perdermi poi il filo del discorso della storia però assolutamente lingua originale anche perché la maggior parte delle serie che guardo hanno attori che parlano comunque in inglese britannico che a me piace un casino e quindi ci sballo proprio a sentire quei dialoghi lì parlati in quel modo lì ma invece scusa gli anime in che lingua li guardi? gli anime allora ho iniziato a guardarli in italiano perché li guardavo in televisione banalmente dragon ball su tele city italia 7 ricordiamo esatto no ram a mezzo era su tmc2 ram a mezzo era su tele monte carlo su tmc2 fantastico poi c'era dragon ball che era su tele city con kenshiro sì cosa c'era? city hunter anche city hunter? c'era mi ricordo la pubblicità di city hunter che diceva di guardare il suo amico kenshiro ah sì? sì clamoroso perché facevano tipo alle 7 e mezza city hunter alle 8 kenshiro totale ma addirittura i cavalieri dello zodiaco un tempo erano su quei canali lì poi li hanno spostati su mediaset sì poi c'era dragon ball anche quelli sono andati su italia 1 c'era la prima serie di dragon ball te lo ricordi su tele city sì poi era andata su mediaset ma poi su mediaset ad un certo punto ha iniziato a veramente proiettare qualsiasi cosa sì è vero vedi anche ad esempio su rete 4 non so se ti ricordi sailor moon il battello a vapore si chiamava esatto che c'era ecco esatto era orario cena mi ricordo che mia madre mi chiamava dalla cucina per andare a mangiare e io tipo me ne fregavo altamente perché volevo vedere sailor moon facciamo auto che sembra una roba io adoravo sailor moon io anche adoravo sailor moon infatti sto per dire mi piaceva tantissimo è una roba veramente è una roba veramente poco eterosessuale poco maschio alfa ma io con sailor moon ci sono andato a bagno letteralmente anch'io sì sì soprattutto con la saga del sailor quelle le ultime due che c'era sailor urano nettuno e plutone quella che era tipo la la nemesi del sailor sai che sailor urano e sailor nettuno era censurato in italia ma erano lesbiche infatti io l'ho scoperto dopo e mi è scesa tutta perché per me erano un po' i classici sogni erotici un po' sì è vero di adolescente puberale però a me piaceva sailor mars sailor mars no dai no ray come si chiamava ray no a me piaceva no no ray era quella blu sailor mercury no non era emi emi era sailor mercury sailor mars era quella che sembrava sabrina di a quasi magia johnny sì i capelli neri lisci lunghi innamorato totalmente io c'era andato a bagno con sailor jupiter prima che arrivassero poi sailor urano e nettuno sailor jupiter era quella alta castana con gli occhi verde sì sì esatto quella con come si dice era l'unica che aveva il diadema diverso dalle altre perché gli usciva fuori l'antennina tipo parafulmine è vero fichissimo che storia fichissimo mica sailor munca l'amoro ti giuro guarda veramente non me ne vergogno ma proprio assolutamente di dire che io ne andavo fieri no no ma no no nemmeno io infatti dico assolutamente ne andavo fieri cioè ne vado fierissimo e non me ne vergogno di dire che era uno dei miei anime preferiti io forse so quasi penso tutte le sigle a memoria ancora adesso se dovessi beh sì a me basterebbe un mezzo ascolto anche a me mi basterebbe un mezzo ascolto come se fosse ieri comunque ecco una roba figa secondo me della trasposizione italiana degli anime giapponesi erano le sigle perché comunque Cristina D'Avena e l'altro tizio lì spaccavano come si chiamava Marco qualcosa non ricordo prima che impazzisse che iniziasse a fare tipo le cover di G8465 esatto quando prima facevano le canzoni erano veramente belle quando facevano le sigle spaccavano veramente ma cazzo si chiamava Ray no? quella Sailor Mars la rossa sai che non me lo ricordo vado a cercare stai googlando stai googlando e si vede anche online però è in inglese bravo ah però Sailor Mars Ray Hino Ray Hino però Hino non si chiamava però si chiamava Ray e io ho anche qualche numero del fumetto di Sailor Moon anch'io qualcosa anch'io bello ah ma tra l'altro mi hai fatto venire in mente adesso a proposito di altri anime clamorosi non so se tu lo guardavi i 5 samurai mamma mia clamoroso i 5 samurai clamoroso cioè quelli quelli veramente proprio nel cuore clamoroso i 5 samurai nel cuore cioè mi viene da piangere guarda mi sto per commuovere clamoroso come si chiamava Rio che poi diventava quello bianco fierissimo diventava Ariel perché si fondevano i poteri di tutti i 5 samurai allora io mi ricordo che c'era Shido Shido della Terra Shido della Terra che io avevo il pupazzetto di Shido della Terra io avevo io avevo l'action figure avevo un po' di action figure con i pugni d'acciaio ti ricordi? sì 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 che erano tutte in come si dice con le giunture metalliche spettacolo poi c'era il tigre di Rio che anche si evolveva tipo esatto io avevo l'action figure di Ariel con l'armatura bianca e la doppia katana ciao Ariel qual era? Ariel era la versione ah la versione bianca di Rio esatto quella con il potere di tutti i 5 samurai nella stessa armatura cattivo quello che poi diventava buono Demon Demon sì fighissimo poi c'era invece gli altri che erano cattivissimi c'era quello tipo del veleno ti ricordi? sì che si chiama sì 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 aspetta c'ho un nome fighissimo lui fierissimo bisogna googlarlo subito scusa subito devo cercare i 5 samurai ma scusa poi erano cos'era i 5 samurai erano una squadra di baseball no? non lo so sì sì erano una squadra di baseball no fantastico Ronin Warriors si chiamava è vero il nome originale dell'anime era Ronin Warriors comunque aspetta perché ho aperto la pagina di Wikipedia anch'io ci sono anch'io ci sono e abbiamo aspetta le leggere Ronin i 5 samurai Yoroiden Samurai Torupa poi aspetta perché abbiamo l'anno è dell'88 clamoroso eh sì io avevo quando iniziato a vedere l'avrò molto io ero appena tornato in Italia quindi era tipo il 92 90 sì sarà stato 93 92 93 mi ricordo che è stato comunque c'erano bellissimo c'era Rio Shin no no aspetta l'italiano era Rio Sami Simo Shido fantastico e Kimo 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 del cielo poi c'era Arago che era il cattivissimo no? sì poi Demon Kratos Rasta c'era Rasta Rasta del veleno Rasta sì è vero Kratos poi c'era aspetta Crana che non mi ricordo chi fosse assolutamente neanch'io Rasta clamoroso che tra l'altro in in giapponese era Raiura fighissimo no quelli veramente proprio i cinque samurai era totale ed è uno di quelli un po' dimenticati in effetti sì è anche quello secondo me i cavalieri dello zodiaco tipo si ricordano tutti hanno fatto i videogiochi tipo io ho un videogioco man per la play 4 dei cavalieri dello zodiaco che è totale sì ma picchiaduro sì è un picchiaduro ma è un picchiaduro in cui rifai tutta la storia delle dodici case ok ok e non solo rifai tutto fai le dodici case fai Asgard fai Nettuno e poi vai avanti e fai Ade fantastico incredibile bellissimo bellissimo comunque in effetti sì era molto più famoso e inflazionato i cavalieri dello zodiaco e alcuni pensa che li confondono cioè quando vi parli dei cinque samurai è vero sì sì e iniziano a parlarti dei cavalieri dello zodiaco gli dici no guarda che ti stai confondendo ci sta e poi ti pilli male no no ci sta ci sta però io mi sono sempre preso male perché per me erano il non plus ultra e invece sono sottovalutatissimi cioè proprio underrated come non mai invece ecco una roba tipo i cavalieri dello zodiaco ci sono le serie nuove su netflix eh ma mezza inguardabile mezza inguardabile non mi cioè ho guardato le anteprime no è mezza inguardabile fatta poi con una computer grafica maffa non mi piacevano i disegni io poi sono troppo affezionato agli originali però man se ti guardi adesso le puntate vecchie dei cavalieri dello zodiaco ti giuro che ti cadono le palle sì perché sono di una lentezza cioè mi è capitato di rivedere una puntata che era la puntata tipo spoiler ma vabbè tanto non lo guarderete mai una delle ultime puntate delle dodici case ok quando praticamente loro arrivano dal gran sacerdote arrivano al grande tempio sono morti praticamente tutti sono tipo tutti sdraiati e c'è Athena che si risveglia perché Pegasus è riuscito tipo con lo scudo no a salvarla le ha tolto quello che aveva non mi ricordo qualcosa che le stava trafiggendo il cuore era forse una rosa di pesce non mi ricordo cosa cazzo fosse però vabbè si riprende e inizia e lei cammina fa il cammino pianissimo e parte dall'inizio e arriva al grande tempio no si mica due coglioni ci sono lì che si sono sdraiati tutti oh Athena e con l'energia che gli esce si ricorrono quando erano bambini e c'è Athena che cammina pianissimo e tutti si 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 Athena vabbè posso dirti diciamo che il timing dei cavalieri dello zodiaco spesso e volentieri era abbastanza paragonabile a quello delle partite di Oli e Benji esatto esatto col pallone ovale che vola per 40 minuti in mezzo al campo esatto però anche quello per dirti era non tanto l'anime ma il fumetto e soprattutto anche il videogioco uno dei miei preferiti non so se hai mai giocato a no Oli e Benji non so se hai mai giocato per la playstation ti lascio parlare ma se mi usciti vai si no no dicevi si praticamente per la play 1 c'era questo gioco captain subasa tipo road to japan non mi ricordo come si chiamasse hengo minasan captain subasa j eh quello lì fighissimo io tra l'altro ce l'avevo in giapponese masterizzato facevi i super tiri facevi con l1 r1 il tiro speciale e poi praticamente più andavi avanti con la storia più sbloccavi le squadre e praticamente avevi potenzialmente se non mi ricordo male con i vari giocatori real japan 7 ti ricordi che difficile che era da battere erano quelli tipo non so se conosco qualcun altro che ha mai giocato a captain subasa j secondo me lo sceriffo l'obus ha giocato dici secondo me sì perché mi sembrava non vorrei dire una beninata ma che ne avessimo parlato e che ci fossimo fomentati l'uno con l'altro ma captain subasa j era incredibile quando riuscivi a fare i tiri incrociati tipo fra Ollie e Mark Landers sì ciao no bellissimo ma poi mi ricordo ma io sai che quel gioco lì ce l'ho sulla PSP funzionante perfettamente ah sì vabbè la prossima volta che vengo ci dobbiamo giocare ci dobbiamo giocare per forza tra l'altro mi ricordo che non mi ricordo se era la real japan 7 che era la rj7 sì o se no se ti ricordi c'era a un certo punto tipo una squadra con la divisa nera e la bandiera dei pirati sì che non mi ricordo se erano loro erano un'altra squadra che cazzo erano imbattibili il real japan 7 erano i più difficili sì però anche questi qua mi ricordo che c'era tipo il giocatore che aveva ruolo tipo di attaccante sulla fascia tipo il numero 7 che aveva sto cazzo di tiro che praticamente sembrava che il il pallone diventasse quasi una palla da rugby e che quindi rimbalzava Captain Tsubasa J Get in the Tomorrow era il nome del gioco man che clamoroso 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 quello mi ricordo che cazzo mi avevo appena modificato la play e mi ero masterizzato ho fatto masterizzare da un mio amico tipo non so quanti giochi praticamente tutti su su come si dice anime o comunque fumetti giapponesi e c'ero andato veramente sottissimo c'ero andato veramente strassotto no bellissimo bellissimo non trovo info su sto cazzo di gioco è in wikipedia Captain Tsubasa J videogame comunque mi sa che ci sono no ci sono tutti di video no si si se vai su youtube è pieno di video io ti dico la verità no no ho sempre avuto difficoltà in quel gioco lì perché non ho mai avuto un degno avversario Andre e beh allora dobbiamo sfidarci sfidarci per forza anche se solo è un genio io ho già patrone che tu non lo conosci lui era il mio degno avversario però non avendo lui la playstation ci giocava solo da me infatti invitavo un botto di amici a giocarsi perché ero uno dei pochi che ci aveva creduto in quel gioco lì e che se l'era se l'era masterizzato quando scopro queste cose mi si mi si apre il cuore no guarda storia della mia vita c'è proprio momento a marcord vai c'è un affare che è stato un flop gigante della sony è uscito due o tre anni fa e si chiama playstation tv ok mai sentito è un affarino grosso così grosso sarà non lo so otto centimetri largo spesso mezzo centimetro si che è praticamente una ps vita con l'uscita hdmi ok e ci attacchi i controlli della play 3 ok oppure ci giochi bluetooth con il controlli della play 3 quindi i controlli romani della playstation essendo una ps vita c'ha dentro l'hardware della psp ok la psp ha l'emulatore nativo della playstation 1 ok quindi cioè praticamente ci carichi le rom le rom o le iso ovviamente quelle dei tuoi giochi che ti sei copiato originali esatto certo e ci giochi su ci giochi in in hdmi in alta definizione no vabbè è fantastico totale e perché ha flopato sta roba che è incredibile guarda non lo so perché perché l'ha lanciato ma se cerchi playstation tv pstv guarda io l'ho comprato su amazon a 30 euro tipo tre anni fa ah quindi c'è non vale niente posso trovarla ancora sì sì secondo me sì allora me la me la compro subito era in super svendita dai vari media o quelle robe lì perché la sony ha sbagliato hanno cercato di venderla insieme al loro servizio di hanno fatto una sorta di netflix netflix dei videogiochi no che paghi tipo 10 euro al mese hai un botto di vecchi videogiochi da giocare non gliene fregava un cazzo la gente si vede che poi guarda non so perché non ha avuto successo perché in generale anche la ps vita non hanno mai fatto non ha fatto giochi eh sì ma più che altro non lo so cioè però è una figata era una di quelle console che non mi ha mai detto niente è altamente hackerabile ok bene ti capita di mettere ne prenderne una prendi tra l'altro che sono tutti i giochi da play 1 tanti giochi da play 2 vale la pena sì ne vale la pena tra l'altro mi hai aperto un altro cassetto nella memoria a proposito di console hackerabili e tra l'altro qua ti faccio un gancione per quanto riguarda un altro macro argomento che ci accomuna e che accomuna anche lo sceriffo Lobo che era il grande forum di Genova della Nintendo esatto praticamente non mi ricordo per quale motivo cioè se mi ero impallato io che lo volessi o se me l'avevano regalato a Babbo perché cioè comunque io sono sempre stato più un fan di Nintendo che di Sony cioè la mia prima console è stata al Nintendo poi Game Boy Super Nintendo Nintendo 64 ecco io ho fatto il salto direttamente dal Nintendo vabbè Game Boy ovviamente al Nintendo 64 dove ho giocato a secondo me quello che è il gioco più bello in assoluto della storia dei videogiochi che è Zelda Ocarina of Time ci sta vabbè ma non divaghiamo quello magari poi lo approfondiamo in un altro in un altro episodio comunque mi ero fatto regalare comunque ero arrivato ad avere in mano un Nintendo DS e se ti ricordi per crackare hackerare il Nintendo DS devi comprarti questa cartuccia con dentro praticamente questa patch dove poi infilandoci dentro la schedina micro SD con le rom tutti i giochi tutti i giochi ovviamente i tuoi giochi che avevi originali che per comodità avevo trasferito di dentro per portarmi dietro solo una cartuccina ovviamente quindi sempre 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 nel legale e sempre nel pieno rispetto della Nintendo che è la mia console del cuore ecco lì ci avevo sballato un casino con ovviamente Zelda e con tutti i giochini stupidi da fare tipo quelli della memoria brain si brain eccetera io ci avevo sballato io malissimo sul Nintendo DS i Castlevania ci hai giocato no non ci ho giocato capolavori 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 quelli mi mancano io ci avevo sballato con tutti quei giochini un pochino da da nerd genialoide tipo ce n'era uno il dottor no ah no scusa Phoenix Wright quello dell'avvocato ci avevi giocato si quello sì quello fichissimo quello fichissimo e poi ce n'era che me ne aveva passato uno fighissimo giapponese dei tizi che ballavano no quello no cazzo come si chiamava quello mi manca però c'era sto invece sto altro personaggio intanto tu parla che io lo cerco su google e provo un attimo a cercare anche tipo professor qualcosa Nintendo DS era sto personaggio che era nato per Nintendo DS ed era questa specie di di professore rispettore che doveva esatto no aspetta no 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 professor Layton no professor Layton and the curious village no sì 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 è quello è quello sì 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 è il villaggio curioso sì 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 fichissimo era tipo una specie di Sherlock Holmes un po' più contemporaneo e lì c'erano tutti questi enigmi fichissimi da risolvere con il pennino e lo schermo touch cos'è che stavo parlando ah quello di come cazzo si chiamava dei ballerini giapponesi in game nintendo ds era sai che proprio non ce l'ho presente era famosa elite beat agents che in giapponese si chiamava ah sì ok ora ce l'ho Wendan oh Wendan era elite beat agents sai cosa mi fai venire in mente quando parli così e il Lobo c'era sotto devi capire quanto c'era sotto sì 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 ma il Lobo c'ha sempre sballato con quei giochi lì un po' da come si dice la crisi epilettica la crisi epilettica sì cioè il Lobo me lo vedo tipo ad andarci sottissimo con Parappa the Rapper ma che bello era era fichissimo era fichissimo era veramente cioè ho giocato frati io Parappa the Rapper non ce l'avevo ma avevo la demo che era uscita con playstation con sì 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 PSM giocavo non stop anch'io 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 grande c'era il disco con la demo e giocavo non stop alla demo sì 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 uguale anch'io anch'io non avevo comprato Parappa the Rapper ma avevo tipo consumato la demo di PSM fantastico sì comunque prima che facevi le vocine giappe mi ha fatto venire in mente un altro un altro grande anime molto più recente che ovviamente è pazzesco che è l'attacco di giganti ovvero attacco te la sei vista sta cazzo di ultima serie no 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 non dire niente lo so perché nelle ultime non perché cioè ne dobbiamo parlare perché nelle ultime tipo sei puntate allora ti faccio una promessa scopri tutto e ti faccio una promessa con cui ci diciamo ti faccio una promessa entro entro le prossime due puntate i prossimi due episodi del podcast mi metti in pari con la seconda parte della terza serie me le guardo tutte guarda piuttosto me le guardo di notte ma me le guardo tutte e poi ne parliamo non ti credo perché no no te lo giuro te lo prometto te lo assicuro anche perché lì c'è tanto da dire ci diamo i compiti sì 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 dammi gli homework te li porto a casa io sai cosa faccio mi devo sistemare no sai cosa facciamo adesso mi sistemo la pstv sì ovviamente mi faccio mi creo un iso backup del mio Capitan Subasa J originale originale e lo mettiamo che ci possiamo giocare e facciamo una puntata del podcast di io e te che giochiamo che giochiamo che snerviamo quando vieni qua lo facciamo a doppio e mettiamo come background il il gioco e ci parliamo sopra e a questo punto però facciamo direttamente uno streaming su twitch facciamo una bella direttina beh ma io ce l'ho il canale su twitch beh anche io prima di fare questa roba qua siamo a posto prima di fare questa roba qua tutte queste cose qua come fare il podcast è perché avevo il canale su twitch su cui ho tra l'altro tipo 80 follower però no no non male mi seguivano ma perché io gioco a un gioco solo che è questo final fantasy unice online ok 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 che ha è un gioco del 2001 che ha una fanbase che a parte che vabbè abbiamo tutti 40 anni perché avevamo quando è uscito eravamo adolescenti adesso siamo dei vecchi però lo zoccolo duro è rimasto ed è gente che è appassionatissima a questo gioco qua io ti dico che è obiettivamente il gioco più bello che sia mai stato fatto ma a mani basse senza alcun dubbio che è tra l'altro un gioco di ruolo è un gioco di ruolo però mmo quindi non è il classico gioco di ruolo a turno ma è abbastanza action ok però è molto bello abbastanza dinamico sì è abbastanza dinamico anche se non troppo che non devi diventare scemo a schiacciare i bottoni ma devi diventare scemo a fare le strategie perché tu vai ad ammazzare i mostri e vai a fare le cose tipo in 18 no devi avere delle strategie difficilissime complicatissime ti devi fare cioè io ho imparato a programmare un pochettino grazie a questo gioco qua perché ci sono degli add-on ok che ti permettono per esempio di switchare tutti gli equip cioè tutti gli armamenti di cambiare le robe e tu ti riprogrammi queste robe qua in codice ok ok cioè io ho imparato a usare banalmente e poi ci sono ho imparato anche a usare excel quando ero prima di andare all'università utilizzando questa roba qua con cui dovevi fare tutti dei calcoli cioè è una cosa sì enorme che entrarci da zero ora come ora è impossibile perché la grafica è brutta ci devi mettere troppo impegno eccetera però se l'hai fatto all'epoca è una cosa che ti rimane ed è bellissimo sì 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 ma è il classico dove poi vendi gli oggetti i potenziamenti cioè quindi poi puoi vendere il tuo profilo il tuo personaggio lo scopo del gioco fondamentalmente è prendere delle armi sempre più forti per andare ad ammazzare dei mostri sempre più forti non è che non finisce mai perché poi ogni mese fanno un aggiornamento in cui magari aggiungono due o tre cose cambiano un po' due cose però è troppo bello ah ma quindi continuano ad aggiornarlo ogni mese ma perché è tipo open source ci sono dei passi che hanno preso in mano la cosa perché comunque costa 10 euro al mese a personaggio e hanno comunque una customer base attiva ancora di dicono fra le 50 e le 100 mila utenti attivi che è tantissimo l'apice del gioco è stato intorno al 2008 che c'era più di un milione di utenti un milione ha toccato il milione cioè i due mmo che hanno toccato il milione sono stati world of warcraft e i primi perché poi ora format ovviamente fa 50 milioni di attivi però è stato final fantasy 11 poi final fantasy 14 però è stato comunque uno dei mmo più famosi della storia bello abbiamo snerdato bene cari ragazze che guarderanno questo po' vabbè ma a parte che nessuna donna guarderà mai questo po' anzi no non è vero mi hanno mandato prima due messaggi due mie amiche che mi hanno detto che hanno visto il podcast ah sì bello sì pensa un po' vabbè ma magari c'è qualche snerdona fra i tuoi follower cioè c'era qualche adesso che non mi ricordo bene però c'era qualche ragazza nel forum com'è che si chiamava nintendo genova nintendo genova nintendo genova giusto c'era qualche ragazza sì dovremmo andarle a ripescare quelle robe lì tra l'altro adesso mi ha fatto venire in mente un'altra roba poi vabbè non so se abbiamo divagato su anime eccetera siamo persi un po' il filo ma mi ha fatto venire in mente un altro grandissimo forum del genovatune eh sì forum di genovatune eh sì ma ne parlavamo anche con Lobo sì 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 infatti ormai ne hai fatto venire in mente che comunque un pochino abbiamo accennato a genovatune però io non lo seguivo a disorderedrama eccetera e no invece sì invece sì e tra l'altro lo sto un pochino ripescando adesso perché c'è ancora il forum di genovatune no 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 non c'era più no 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 è chiuso e poi se ti ricordi c'era Pazzuzzo però se c'è Chiara Ragnini che era effettivamente lei che era la fondatrice era la fondatrice e insieme a Daniela Sereto in arte Pazzuzzo Pazz esatto che credo poi abbia riesumato un pochino il tutto cambiando nome mi sembra che si chiami Liveaz ah sì una roba del genere che però non è non è più un forum è vero ma ne parlava ne parlava anche l'Obs sì non è più tanto un forum ma è più una pagina su Facebook adesso se non mi ricordo male ti dirò di più ti dirò di più vai io ho fatto fra i miei primi live Inferno l'Inferno di Genova il contest di Genova Toon del 2006 ma coi karma coi karma che tra l'altro ma tu non ci conoscevamo ancora lì non ci conoscevamo ancora no io vi ho iniziato a seguire per poi diventare il fan numero uno dei karma esatto perché tra l'altro devo fare due precisazioni prima di continuare questo discorso allora io e te è vero che poi ci siamo conosciuti meglio tramite il forum sì della Nintendo però io comunque c'ero già a bagno coi karma da tempo non mi ricordo e invece con con Lobo ci siamo conosciuti molto tempo prima delle partite del del giovedì sera a calcetto andavamo a giocare tipo verso San Pier d'Arena in un campo di una parrocchia cioè una roba veramente brutta e io lui l'ho conosciuto perché suonava in un gruppo che si chiamavano Adele e suonavano hanno suonato agli emiliani che è questo istituto di Nervi dove io andavo a prendere lezioni da un tizio che aveva tipo una sala fatto il mio primo live agli emiliani sì fantastico anche io penso di aver fatto il mio sverginamento musicale è stato agli emiliani con una band punk che avevamo tirato su con i vari come si dice allievi di questa scuola di musica che c'era lì dove il maestro di basso era il grandissimo e illustrissimo Michele Bensa ah grande Mike B un bomberone Mike B grande comunque dicevo che c'ero già sotto con i Genovatun con i Karma Test prima che poi noi sì scusami con i Genovatun madonna con i Karma Test prima che poi noi ci conoscessimo ero già iperfan è vero me lo ricordo infatti poi tu mi avevi ci eravamo conosciuti sul forum che tu dicevi di fase cronica esatto i tempi sono avanti erano erasmus pensa un po' a te io ho fatto l'erasmus nel 2007 sono stato qualcosa come nei primi veramente due o tre erasmus di medicina di Genova ma l'erasmus è stato un disastro ma tu l'hai fatto in Spagna l'ho fatto a Madrid a Madrid io volevo andare pensa in Svezia dove sono andato io però in Erasmus la Svezia la facevano fare solo agli ultimi anni di Erasmus ok invece i primi anni che erano magari appunto quelle discipline più anatomiche generiche infatti c'era tipo anatomia biochimica anatomia patologica avevo queste robe qua e potevo andare a Madrid però era un caso e quanto hai fatto? sei mesi sì ma ho dato mezzo esame che poi non mi hanno riconosciuto vabbè ma posso dirti al fine dell'erasmus l'ha fatto per quello comunque sì cioè sì l'ha fatto per uscire fuori come si dice da sì io c'ero già abbastanza dalla zona di discomfort esatto dal disagio più che dalla tua zona di comfort oramai è per uscire dal tuo disagio che oramai è diventato il tuo comfort esatto da quel cazzo di buco di culo che era ai tempi Genova o perlomeno come la vedevamo noi cioè almeno io la vedevo veramente come un un posto riduttivo e infatti l'erasmus è stata un po' la prova la conferma di questa cosa qua eh scusami dicevi no che secondo me l'erasmus esiste ancora l'erasmus intanto sì 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 lo fanno ancora le ragazze sì sì c'era stato un boom un paio d'anni fa i giovani d'oggi lo fanno ancora le erasmus i giovani d'oggi non valgono un cazzo no in realtà sì nel senso un paio d'anni fa mi sembrava di aver letto un articolo che c'era stato il boom di partenze ma dai sì sì soprattutto io ricordo qualche anno fa avevo letto che era finito il programma erasmus che doveva durare tipo avevano fatto il primo contratto iniziale con tutte le cose che era boh trasparo tipo otto anni dieci anni una cosa del genere ed era tipo nel 2013 2014 era finito e poi avevano fatto un altro erasmus che era l'erasmus qualcosa si chiamava tipo erasmus plus una cosa del genere no era il placement erasmus placement no allora secondo me lì c'è stata un po' una fuga di notizie fake news fake news fake news da l'ercio.it ah tra l'altro ah ma non è l'ercio ah ma non è l'ercio esatto e sarebbe da fare una bella puntata sulle fake news con il card sì sì ma la stiamo già programmando grande vedi si chiama erasmus plus adesso ah plus ok perché io ero rimasto all'erasmus sì placement che era praticamente ma il programma erasmus è stato stabilito nell'87 ma dove da chi da quando che nell'87 non c'era neanche l'unione europea si chiamava comunità economica cosa stai dicendo no è giusto è giusto è giusto wikipedia non mente mai è tutto giusto comunque c'era erasmus plus dal 2014 al 2020 no comunque cazzo ne sai è un botto ma è un botto c'è wikipedia davanti no però il fatto è che prima dicessi wikipedia eh sì wikipedia erasmus plus sì ma perché mi ricordo me la ricordo sta storia mi aveva colpito io cioè nel senso ero arrivato alla fake news che avrebbero abolito l'erasmus che era non era una fake news doveva essere vero infatti perché finì non è che lo abolivano finiva il programma e in quel momento sembrava non ci fossero più i fondi europei per fare per poterlo fare invece hanno fatto l'erasmus plus ok infatti il lifelong learning program è ufficialmente nato è stato fra il 2007 e il 2013 ok che ha impiazzato il socrates program ah va bene era un'altra cosa il socrates ok poi l'hanno steso all'erasmus mundus quindi che si poteva andare anche fuori dall'unione europea perché l'erasmus era solo per l'unione europea sì e poi sì 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 ok dal 2014 c'è questo programma che è quello di adesso che è 2014 2020 che era erasmus plus e poi faranno un altro erasmus un altro programma erasmus il 30 maggio 2018 the european convention adopted hanno fatto una nuova proposta che sarà l'erasmus fra il 21 e il 27 ok si chiamerà erasmus gt esatto erasmus super esatto no comunque erasmus gt comunque da quel che mi ricordo c'era c'era prima che facessero sto ambaradam dell'erasmus plus super z gt la possibilità la possibilità di fare tipo come si dice il tirocinio all'estero comunque farla tesi all'estero quello era socrates si chiamava no io mi ricordo erasmus placement non vorrei dite una cagata vabbè se di fatto è che comunque bene che ci sia ancora e consiglio a tutti di farlo perché è proprio la classica cosa che ti cambia la vita sembra una frase fatta innesima una banalità ma è vero totalmente vero cioè allora come hai detto una delle cose che vogliamo fare a parte che in questi giorni sembra una cazzata però tantissime persone mi hanno scritto ma tanti cioè parlo di numeri nel senso più di 30 persone mi hanno scritto proprio dedicato del tempo a dirmi oh guarda anche persone che non sento da un po' mi hanno detto guarda ci ho dato un ascolto una figata alcuni che mi dicono figata solo l'audio me lo ascolto tipo vado in macchina altri che mi dicono ci sballo proprio a guardarti anche nel video quindi l'obiettivo alla fine è proprio quello però stiamo infatti programmando delle altre puntate una è proprio quella sulle fake news con Carlez però dobbiamo un attimo capire come farla perché Carlez da un lato ha quasi un ruolo serio cioè no senza da un lato ha un ruolo serio professionale e noi comunque vorremmo tenerla come una roba un po' scansonata così sulle fake news quindi dobbiamo capire un attimo come fare è una roba che vogliamo fare una puntata con Greta però devo capire come per renderla entertaining e non banale in cui facciamo in cui parliamo perché comunque io sono dell'85 e Greta del 96 c'è inevitabilmente un gap generazionale cioè io parlo delle tartarughe ninja lei mi guarda e dice che cazzo è sì sì ok però invece lei è comunque una della sua generazione che non so come dire è cresciuta ascoltando i Green Day e Nirvana come noi non so non so per quale strano motivo sì è stranissima però io me ne rendo conto anche adesso che mi capita comunque magari di uscire anche magari ad allenamento cioè siamo proprio diversi mi direi noi ci stiamo avvicinando ai 40 i prossimi per me sono 35 quindi sti cazzi loro ce n'hanno 20 appena compiuti ci sta che siamo diversi però beh ovvio ovvio e vogliamo fare però devo capire infatti vorrei avere tipo vorrei che fossimo io e Greta qua e vorrei che ci fosse tipo da fuori magari via Skype qualcuno che fa un po' una sorta di giudice che dice le cose che fa le interviste tipo vorrei farla in quel modo lì tipo che dice allora ci fa vedere cazzo ne so condivide lo schermo e ci fa vedere un po' come fanno quei video dei react no tipo ci sono i ragazzini che gli fanno vedere un Walkman e dicono ma che cazzo è il Walkman si si eh zio quando volevi passare la canzone dopo dovevi schiacciare aspettare 40 secondi e forse lo beccate oppure quando i tuoi amici ti passavano i mixtape che erano registrati dalla radio con le canzoni che iniziavano 20 secondi dopo perché appena sentivi la canzone alla radio andavi a schiacciare e registra si 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 fantastico mixtape tantissima roba tantissima roba potresti farle vedere un Nokia 3310 no però quello forse quello eh beh salia eh però io ho avuto il mio primo cellulare a 11 anni quindi quando lei è nata quindi lei non è mai stata senza cellulare in effetti e il tuo primo cellulare è stato? il Nokia 5110 5110 che era quello è stato il primo con la cover rimovibile che era solo davanti che aveva l'antenna era solo davanti e aveva l'antenna ok ok io mi sa che ho avuto il modello dopo scusa Nokia 5110 io il primo che ho avuto è stato il 3210 3210 blu proprio questo qua azzurro no non ci credo bellissimo infatti è che me lo vado a vedere anch'io perché non ce l'ho presente in realtà lo vendono lo vendono a 27 euro sui day ah si cazzo eccolo qua ok ce l'ho ce l'ho ce l'aveva non mi ricordo chi mia zia sì invece ho iniziato con il 3210 era Snake aveva Snake sì invece il 3210 aveva Snake 2 che era finito e poi aveva quell'altro gioco tipo dello spazio Space Space Invaders no non era Space Invaders Space Invaders era il gioco aspetta Nokia vado a cercarlo subito 3210 games cos'era Space Impact Space Impact bravo clamoroso 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 e poi ero passato al 3310 e al modello quello pimpato del 3310 che non mi ricordo come si chiamasse eh non me lo ricordo 333330 ah t'ho perso su Skype aspetta aspetta perché si è bloccato dammi un attimo aspetta ti vorrebbe ora la cosa stiamo affrontando ecco ti eh sono tornato scusami ma mi si era non so perché non rimane è perché se chiudi la schermata non ti vede più la webcam eh ma no no in realtà non ho chiuso la schermata vabbè tra la sham comunque si bella questa cosa qua delle due generazioni a confronto anche perché ci sono un botto di robe sicuramente su cui ci sarebbero quei momenti cringe in cui tipo veramente le fai vedere ecco scusa un attimo cringe spiegami adesso perché tu usi il termine cringe perché uso il termine cringe dove l'hai letto dove l'hai sentito eh non me lo ricordo mi fai una domanda troppo difficile però è una cosa recente vero no non tantissimo cioè adesso secondo me è diventato un po' mainstream come termine però io da un po' che lo uso cioè che lo uso che ne sento parlare sarà boh un annetto buono sì sì si dice però anche io infatti è un annetto che si usa cringe sì non sarà mai usato mai usato io la cosa a cui l'ho sentito e qui faccio il gancio di passaggio senti qui che gancio strategico la cosa a cui si usa di più cringe è triple c henry seudo il campione dei pesi gallo e dei pesi mosca dalla ufc nonché ex medaglia d'oro alle olimpiadi che è cringe henry cringe seudo perché cringe lui? perché lui fa delle cose trescissime tipo ah non lo so ne ha fatta una tipo con su instagram tipo con i pannolini che cambiava i pannolini alle cinture ma delle cose che sono tipo ma fa delle cose trescissime poi è tutto fa tutte le cose con le Kardashian però è un atleta la stra mega madonna lui sì però è super cringe perché gli fanno tutte le cose che fa proprio sì 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 che dici veramente awkward giro sulla schiena quelle robe lì adesso bisogna fare un bel programma per le puntate poi adesso ho tutta l'attrezzatura figa per fare anche qua in studio alla grande ci sono i nostri assistenti che qui a West Hollywood che che si adoperano poi oggi la grande novità della puntata di oggi che tu non lo stai vedendo ma lo starà vedendo chi sta guardando qua e lo vedrai tu dopo appena ti puoi guardare il video è il cambio di regia quando parli te no quello è sulla tua facciazza io vengo messo in disparte quello è spaziale quello è spaziale e non solo abbiamo avuto anche il logo all'intro ah sì ci stiamo evolvendo il podcast clamoroso si sta evolvendo in maniera drammatica sta diventando una roba enorme una roba enorme e la sigla ci hai già pensato ne devo fare bisogna fare anche la sigla sì sì a poco a poco è che ho il problema tipo stavo facendo quella sigla con Giovanni D'Oggi degli Exotago ho il terrore che mi dia dei problemi su YouTube i pezzi protetti da copyright perché quando streamavo avevo magari ogni tanto anche in sottofondo delle musiche eccetera e mi bannava proprio lo stream ma proprio instant e non mi faceva neanche andare live però non è legato a a quanti secondi dura non lo so e poi soprattutto se se comunque la copri con qualche altro suono quello non conto quello te lo sgamano no perché io comunque avevo sotto i giochi cioè il gioco quindi tutti i movimenti tipo le spadate le magie queste minchiate qua si sentiva la musica comunque te la sgamava quello che posso fare invece che è una figata posso fare vedere i video senza l'audio ok tipo i video su YouTube lo puoi far vedere cioè non ho capito se io faccio T1 in basso nell'angolino riproduco un video di YouTube ah ok infatti c'è un amico che è il mio batterista che è esperto di video trash e ogni volta ci tira fuori vogliamo fare una puntata in cui guardiamo tutto il tempo i video ok e vediamo facciamo le reazioni facciamo le varie cose ok 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 tra l'altro vorrei essere inserito in quel gruppo su Whatsapp di cui non posso dire niente cioè beh ognuno ha dei gruppi innominabili su Whatsapp o sbaglio beh certo o più di uno io ne ho più di uno ha tematiche diverse però ne ho alcuni decisamente innominabili sì io ne avevo un bel po' alcuni sono morti lentamente però me ne sono rimasti un paio soprattutto su su Telegram dove c'è più libertà nel caricare contenuti anche pesanti eccetera quindi c'è tipo video da dieci minuti veramente iper iper trash ma neanche trash c'è proprio roba brutta cose brutte però hanno il loro perché bene man direi che siamo a un'ora anche oggi abbiamo sorpassato siamo a 58 minuti ora e ti direi ti direi prossimi argomenti fra di noi ah non abbiamo parlato un cazzo della UFC ma da un lato io preferisco perché se no mi sarei a mutolito di nuovo anche perché non ho visto niente della della card del weekend scorso ti dico io ti faccio un velocissimo riassunto di cosa guardare vai fammi un recap vai c'erano stati tre mega eventi c'era la Bellator c'era la One Championship e c'era la UFC Bellator e One Championship puoi tranquillamente trascurarli per quanto siano stati dei bei eventi soprattutto la One ma poi non avete parlato perché un po' con il Lobo ok un bel po' tipo un'ora e allora ti puoi guardare UFC Tampa che c'è stato sabato sera veramente una bella card bellissima e ci sono stati dei match c'è stata Mackenzie Dern che era quella che ti dicevo che era incinta la tipa un bambino quattro mesi fa bellissimo match poi c'è stato il co-main event Cron Gracie quello che ti dicevo che è il tuo preferito contro Cam Swanson Man match pazzesco bellissimo questo me lo vado a vedere tra l'altro mi sono usciti mi sono usciti un po' di video su YouTube di quelli consigliati con Cron con con Cron la dieta pescitariana di Cron adesso la guardo ho visto che mi è venuto a fare il box con il suggerimento devo ancora guardarlo e poi c'è il main event anche è stato molto bello che era quel tizio lì che era nel wrestling no 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 era il tizio erano altre due donne era Michelle Watterson contro Johanna John Cain Cueck che era ex campionista poi non c'era un tizio quello che che mi dicevi di Brocchia che non è ovviamente nella UFC ma è andato nella WWE ah ok quindi si è fatto un po' di casino però soprattutto Chris Benoit Chris Benoit è ancora vivo è ancora vivo non è quello che faceva il gesto così esatto ecco momento momento pesantemente cringe adesso bravo su questo momento cringe chiuderei questa quinta puntata del podcast va bene e ti direi oltre che ringraziarti per questa bella chiacchierata dove mi hai aperto 200 miliardi di cassetti della memoria che la prossima volta potremo iniziare a parlare veramente un po' di music bravo dobbiamo perché il gancio di Genova Tune non era un gancio a caso perché mi piacerebbe un po' come te avevo già accennato fare una sorta di come si dice escursus storico delle band anni 92 mila genovesi mi piace che tra l'altro vorrei curarlo bene e farci proprio una bella puntata sopra sì cioè di quello che magari mi immagino possa essere un domani il mio podcast se mai metterò in piedi sta roba se no ne parliamo assieme qua sul clamoroso ti volevo dire una cosa ma me la sono dimenticata quindi non aveva importanza invece era importantissima e ti verrà in mente appena schiaccerai il tastino rosso di fine chiamata va bene grazie a tutti fate una cosa se c'è qualcuno che ha guardato fin qua questa roba qua è stata un'ora e due minuti con noi fateci un favore e fate subscribe al canale di youtube perché quando arrivi a 100 subscriber posso cambiare la url in youtube.com slash podcast clamoroso e non avere youtube.com slash hgrnf3459 e così vi arrivano poi tutte le notifiche anche quando carichiamo una roba e soprattutto quando andiamo live perché a breve lo step successivo sarà essere proprio direttamente live su youtube grande mossa ora sto solo finendo e lo carico subito comunque si diciamo che ce lo meritiamo anzi soprattutto Gab se lo merita un bel subscribe un bel like condividete il video con tutti i vostri amici seguiteci su instagram su facebook e su tutti i canali spazio sociali del mondo podcast clamoroso quinta puntata ciao ragazzi grazie ciao a tutti ciao